Per quanto riguarda la lettura, prendiamo il nostro documento, lo poniamo davanti al nostro mazzo, puntiamo il dito, lo rimuoviamo, verrà scattata una foto e poi l'elaborazione del testo. Ci fermiamo in qualunque momento, aprendo la mano davanti al testo in modo da indicare il gesto di alt, di stop. Eventualmente possiamo toccare la telecamera al centro, verrà scattata una foto generale. Lo rifermiamo. Terzo metodo di lettura è la lettura automatica, prendiamo il libro con due mani, lo poniamo davanti a noi e attendiamo che la telecamera scatti automaticamente una foto. Possiamo mettere in pausa la lettura con il doppio tocco. La ripresa della lettura avviene sempre tramite doppio tocco.